Riguardo le notizie della denuncia dei 21 cittadini tunisini, protagonisti di disordini e violenze in occasione del loro imbarco sulla nave quarantena ormeggiata presso il porto di Augusta, adesso il segretario provinciale del SIUP, Retuseo Tommaso Bellavia, vuole esprimere un vivo compiacimento per il lavoro svolto dai colleghi che anche in questa occasione hanno dimostrato elevata professionalità e un non comune senso del dovere. Ha così dichiarato il segretario provinciale del sindacato di categoria. I poliziotti siracusani, prosegue Tommaso Bellavia, impegnati al porto di Augusta per tutte le necessità riguardanti i continui arrivi di migranti che devono trascorrere il loro periodo di quarantena nelle navi allestite per poi essere accompagnati nelle varie strutture di accoglienza sparsa in tutto il territorio nazionale, sono allo stremo delle forze e hanno bisogno che il Dipartimento della Polizia di Stato invii al più presto risorse e uomini. Non si può immaginare che tutto il peso dell'immigrazione clandestina gravi sulla questura di Siracusa senza che il Ministero dell'Interno invii urgentemente rinforzi che peraltro gli sono stati richiesti già da tempo, prosegue il segretario provinciale del SIULP, come anche le tanto agognate risorse economiche che ripagherebbero gli agenti di tutte quelle ore di straordinario che ancora devono essere pagate. Ci appelliamo al signor prefetto, prosegue Tommaso Bellavia, e a tutti gli altri attori istituzionali affinché le giuste rivendicazioni dai poliziotti in servizio in questa provincia possano trovare un tempestivo accoglimento.